L'occhio del grande fratello prende vita anche ad Ostuni, 40 le telecamere sparse per la città bianca a garantire la sicurezza di tutti i residenti, i cittadini e i turisti. Il sistema operativo è entrato in funzione e sarà collegato con le forze dell'ordine Questura di Brindisi, Commissarato di Ostuni e Polizia Municipale. Tutti, grazie ai monitor collegati nelle loro sedi, tornano sott'occhio le telecamere puntate nelle zone strategiche della città. La dimostrazione è che continuiamo a lavorare alacremente e quindi i risultati che ci eravamo proposti, gli obiettivi che dovevamo raggiungere come si dice li raggiungiamo, tagliamo alcuni traguardi. Quello della sicurezza, di un sistema di videosorveglianza che potesse tenere sotto controllo con la finalità di prevenire la commissione di reati, le violenze soprattutto sui beni pubblici, era un obiettivo strategico che abbiamo raggiunto in questo momento grazie al progetto che abbiamo all'epoca candidato e che è stato finanziato con un PON del Ministero degli Interni. 40 telecamere sono in funzione nella nostra città che consentiranno di avere in tempo reale il controllo attraverso anche questa centrale operativa, questo collegamento anche con le forze lordi e con le quali abbiamo sempre collaborato per fare di questa città non una sorta di isola felice ma sicuramente non un terreno di scorrerie, di conquista per i criminali che vogliono arrecare danni alle persone e ai beni di questa città.